In questo nuovo video andiamo a discutere due nuove operazioni, o meglio la mia nuova operazione su loro e quella su long sull'euro che in realtà poi ho chiuso in maniera anticipata prima del ritracciamento. Ben ritrovato in questo appuntamento, sono Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, questa è la professione trader, la rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading e quindi le operazioni che svolgo su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in IR Forex. Bene, l'operazione che vediamo in questo momento sul grafico di ProRealTime è uno short sull'euro, mentre nello scorso appuntamento ci siamo lasciati con un long su euro-dollaro, long che poi in realtà ho chiuso. Quindi adesso magari andiamo a riprendere un po' il diario di trading e ripercorriamo le mie decisioni e quello che sono andato poi a svolgere nelle ultime giornate e quindi nell'ultima settimana. Per quanto riguarda l'euro-dollaro io avevo fatto questo ingresso long, l'ingresso 27 maggio, dopo la dinamica che aveva portato su il prezzo, quindi stiamo parlando praticamente del 27 maggio, io ho fatto l'ingresso long quindi il lunedì al prezzo di 1.086 e successivamente ho deciso di chiudere poi questo trade quando c'è stata la price action di martedì, quindi il martedì successivo. Quindi ho chiuso poi il 28 maggio al prezzo di 1.0863, quindi praticamente pochi euro di gain, stiamo parlando di un break-even, quindi un'operazione che si è aperta e si è chiusa bene o male al prezzo di entrata. Andiamo a vedere un attimino anche quello che ho scritto nelle mie decisioni. Quindi il 27 maggio avevo fatto questo ingresso dopo il break-out del setup di entrata e il 28 maggio in serata quindi vado a chiudere. In realtà già alle 15.30 avevo notato che la sterlina era arrivata sul livello importante, diciamo che sull'euro nelle ultime giornate avevo notato un'ottima correlazione con la sterlina e con l'Australia, soprattutto con la sterlina che è la valuta più vicina, e quindi stavo tenendo in osservazione la correlazione con questa valuta. Quindi in apertura americana, fondamentalmente o poco prima, noto che la sterlina stava già su 1.28 e poi in serata si è venuta a creare questa price action, diciamo, in end of day, una pin bar short, di cui ho riportato il grafico, che aveva testato i massimi settimanali. L'informazione che arriva da questa giornata, unita alla correlazione con la sterlina, è di un possibile ritracciamento che mi permetterebbe di entrare nuovamente con un prezzo analogo o migliore in un secondo momento. Quindi ho deciso di entrare, o meglio, di uscire dopo il mio ingresso, quindi il 28 maggio in serata alle 20 esco, ed effettivamente il giorno dopo c'è stato questo ampio, più che ritracciamento, c'è stato questa barra di ampia volatilità, questa nera, eccola qui, questa, che in qualche modo va a ritestare l'1.08, quindi quest'area di possibile tenuta, di fake, anche se potevo pensare ci potesse essere questo fake, in realtà l'idea che mi dava questa pin bar era di un possibile 1-2 giornate di ritracciamento, un pochino più lieve, magari arrivare anche a 1.08 con meno forza e falsarlo, questa price action pesante, questa barra pesante, insomma, era meno, come dire, non era proprio quello che intendevo nel momento in cui ho preso la mia decisione. Comunque bene, il prezzo viene giù, l'1.08, quindi viene tenuto la giornata successiva, questo è in realtà anche un setup FTV, però non ero convinto al momento, perché stavamo comunque sempre sotto questi livelli, e andiamo a vedere un po' quello che stava facendo anche la sterlina, sì, stava tenendo, però mi dava l'idea che questo potesse magari breccare, addirittura poter fare qualcosa del genere, quindi se non c'era forza, quindi arrivare magari su questi livelli e andare giù, insomma, era qualcosa di plausibile, quindi nel momento in cui si è venuto a creare questo setup non sono entrato. In realtà poi il venerdì, quindi sulla chiusura del mese, il prezzo effettivamente va a rialzo, testa, insomma, chiude con uno spike, e nella giornata di ieri, in realtà, crea, quindi lunedì 3 giugno, questa chiusura importante, perché praticamente va a fare, diciamo, un annullamento di tutta questa zona di vendita, adesso oggi andrò a vedere che cosa succederà, magari se venisse confermata nelle prossime ore, potrei valutare l'ingresso long su questo mercato, anche perché quello che mi piace dopo questo recupero long, se andiamo a vedere questo, quindi questo recupero long che annullava praticamente la price action short di ormai i primi di aprile, creerebbe, anzi già creato questo swing low interno, perché questa è una inside, però uno swing che effettivamente potrebbe, diciamo, qualcosa che stavo valutando, una dinamica potrebbe farmi pensare di andare a fare un trade per andare a prendere l'1.10 livello tondo, qualcosa sulla quale ho, ci ho fatto un pensiero, al momento non ho progettato alcun trade, però andrò magari a seguire queste dinamiche, anche magari sul segliore, e capire cosa succede proprio su queste zone, quindi le zone che il prezzo adesso ha abbandonato, tutta questa area di prezzo, quindi magari se qui, magari oggi siamo in sessione europea, in questo momento viene giù, magari anche stasera dovesse fare una dinamica interessante, potrei, potrei valutare un ingresso, però devo fare attenzione perché in realtà non c'è un trigger operativo sul giornaliero, è una valutazione che comunque andrò a fare tenendo in considerazione quella che è anche la situazione sul settimanale. È un'idea, è un'idea che insomma a me, di trading che ho in testa, insomma adesso la andrò eventualmente poi a valutare via via man mano che il prezzo insomma darà le sue, le sue nuove indicazioni, le nuove informazioni quindi che proverranno da questo mercato. Passo adesso invece all'altra operazione, l'operazione che era appunto sull'oro, operazione che ho inserito il 30 maggio, quindi sul finire praticamente di maggio ho deciso di fare un trade short in questo caso, quindi compratore di dollaro americano però sull'oro, quindi sono entrato al livello di 2335 con un investimento di me 250 euro a 2460, quindi eccolo qui, sono entrato praticamente in orario post pranzo, ho atteso la sessione mattutina e quindi sono andato a fare questa entrata al mercato su una dinamica FTV Power, guardando anche in questo caso la correlazione con il mercato dell'argento, quindi andiamo a vedere un po' sul grafico, vediamo che cosa effettivamente, qual era stato il mio ragionamento. Allora per quanto riguarda il mio trade lo possiamo vedere qui, in cui ho fatto l'ingresso dopo questa dinamica che in qualche modo è la conferma di quello che sta avvenendo un po' sul settimanale, guardiamo un po' la struttura del settimanale, è sicuramente una struttura long che ormai vede il mercato praticamente in rialzo da fino ottobre 2023, qui c'è stata una fase di ritracciamento, comunque ottobre, dicembre è stato un bel movimento long, un forte diciamo un movimento più ampio di ritracciamento, comunque di compressione, di volatilità e poi nuovo movimento long. Che cosa succede su questi livelli? Siamo su dei livelli mai visti per quanto riguarda loro, quindi livelli di massimo storico per quanto riguarda loro, crea dopo questa candela di servimento, una tail bar, diciamo di una pin bar che ha un corpo che non va a chiudere dentro la precedente, comunque con un inside che cosa fa? Ritraccia, poi va su e nella settimana del 20 maggio fa una falsa rottura di questi livelli con un aumento di volatilità ribassista, quindi crea questo, questa diciamo, questa situazione con un doppio massimo 1 e 2 tecnico che effettivamente potrebbe almeno portare i prezzi sui minimi precedenti se non addirittura in zona 2.250, addirittura potrebbe partire anche una fase di ritracciamento più ampio nel medio periodo, ma non è, diciamo, il mio trade e quindi andare anche verso zone intorno ai 2.000 e 2.200, ma questa è una cosa che magari avverrà in diverse settimane, quindi non è, diciamo, non è scopo oggetto del mio trade. Però questo tipo di dinamica a lungo è il mercato che fa praticamente questa falsa rottura con un settimanale bello bearish, quindi candela ribassista che rimangia praticamente, fa falsa rottura e rimangia la candela precedente, è molto interessante. La settimana scorsa c'è stata una diminuzione di volatilità, quindi movimento forte al ribasso, in questo caso movimento forte al ribasso, eccolo qui, e dopo questo movimento forte al ribasso il prezzo è andato pian pianino a ritracciare un po', quindi va a sbattere sui livelli 2.330, crea questa dinamica FTW Power e decido poi nella giornata successiva di fare un ingresso, quindi fare una entry, quando sono entrato il prezzo rimaneva stabile più o meno tra i 2.330 e i 2.340, insomma decido di entrare, quindi sono entrato il 2.335 con un ordine al mercato. Quindi nel momento in cui ho fatto l'ingresso il mercato chiude con una candela bullish, ma che appunto era appena andata a convalidare il settimanale, rimane diciamo all'interno della dinamica, successivamente quindi il 31, il prezzo va su fino al 2.360 e crea una nuova, questo setup, questo è un'altra FTW, una nostra strategia operativa, proprietaria di Ardino Schenato e Airforex, che comunque è un'informazione di, diciamo, a favore in questo caso del mio trade. Per quanto riguarda il mio investimento, ho deciso di posizionare il mio investimento con uno stop, quindi uno stop iniziale, un paracaduto iniziale di 250 euro circa a 2.462, insomma sopra, se andiamo a vedere il settimanale, sono sopra i massimi settimanali, il mercato sta consolidando e potrei valutare, questa diciamo l'idea era che se dovesse il mercato dare la possibilità, dovesse esserci, diciamo, un crollo più improvviso, più verticale o dare una dinamica di possibile incremento, potrei anche incrementare su questo mercato. Cos'è che potrebbe non farmi incrementare? Il fatto che il mercato arrivi dritto sui 2003, quindi questa zona comunque di minimi precedenti dove comunque potrei andare a prendere profitto perché non c'è, diciamo, non ci sarebbe la possibilità di ragionare per un incremento, nel senso che questa comunque è una zona di possibili riacquisto, lo rivediamo qui sul settimanale, questi 2003 o comunque un po' più basso, il 2002, 80, questa zona è sicuramente una zona di acquisto e prima che il mercato possa andare al ribasso è possibile che magari abbia bisogno di fare anche qualcosa del genere, poi fare, come dire, un ulteriore massimo decrescente, una cosa di questo tipo e poi effettivamente iniziare una fase più di ritracciamento più ampio. Quindi diciamo da questo punto di vista, sì, ho il limite in macchina, in questo caso 2250, non è effettivamente, diciamo, la zona dove voglio in maniera mandatoria andare a prendere profitto perché andrò a ragionare una volta arrivati su questi livelli, facendo attenzione al mercato perché il mercato delle materie prime come l'oro, ma anche lo stesso petrolio, sono mercati che su determinati livelli possono avere delle reazioni anche repentine. Il limite in questa macchina, il limite in macchina in questo caso è dovuto al fatto che è altrettanto vero che questi mercati, come loro, possono fare anche uno spike un po' più ampio e quindi nel caso ho deciso di mettere il limite a 2250. Solitamente, insomma, se seguite i miei video, tendo a non mettere il limite, chiaramente metto lo stop, ho la zona di massimo investimento, ma il target, il limit, quindi l'ordine di chiusura del trade per un eventuale profit non è, non lo inserisco, non lo inserisco spesso, diciamo, ho delle zone, ci ragiono, man mano che poi il prezzo si va a muovere se si muove e se si instaura soprattutto un trend. Tra l'altro sul mercato delle valute abbiamo visto, c'è stato, no? C'è ancora tuttora questa fase un po' laterale e quindi magari è più efficace invece prendere profitto, mettere anche i limit e poi ragionare via via man mano che si costruiscono le dinamiche su questi livelli. Loro invece stando più direzionale potrebbe avere, mi avviso, anche una fase un pochino più, magari un'altra settimana di compressione e poi magari comincia a scendere un pochettino più pesantemente prima di ripartire col suo trend long. Bene, questa è la situazione sul mio conto, su questa rubrica. Sono quindi uscito in pari sull'euro dollaro, sono short sul gold. Ah, andiamo a vedere anche perché la situazione avevo visto che anche l'argento effettivamente era il mercato che avevo considerato nel mio, qui ci sono più livelli, non so come mai, andiamo un po' a cancellare qualcosina. Ok. Ecco che ci sono, diciamo, ci sono queste zone, avevo visto un po' la situazione sull'argento, quindi guardiamola sul settimanale e come avevo scritto sul diario, effettivamente avevo indicato, avevo, eccolo qui, avevo dato uno sguardo alla correlazione con l'argento che sebbene sia in questo momento più forte dell'oro, dopo aver fatto un doppio massimo tecnico, potrebbe anche lui avere una fase di ritracciamento, diciamo che avevo dato un'occhiata alla correlazione con l'argento. Effettivamente c'è stata una price action qui di, appunto, esaurimento, diciamo, di questo trend long, di questa barra poi, ultima barra di forza, in questo momento si è arrestata, poi settimana scorsa un'ulteriore pinbar inside e adesso che è stata convalidata, effettivamente abbiamo un mercato, almeno oggi, in debolezza che potrebbe, insomma, potrebbe avere anche qui una fase un pochino più di storno, abbiamo dei livelli più in basso, insomma, non ho analizzato bene questo mercato, però sicuramente, diciamo, mi sono fatto aiutare dalla correlazione con l'argento, in questo caso, nel mio processo decisionale. Ottimo, quindi questa è la situazione sul mio diario di trading, ho questo trade, andremo a vedere poi come se si muoverà il mercato nella direzione del mio progetto, altrimenti, insomma, andrò a fare le mie considerazioni operative, quindi le mie decisioni su come andare a gestire questo trade. Quindi anche per oggi è tutto, se c'è qualcosa che in qualche modo ti è piaciuta durante questo video, fammelo sapere nei commenti, lascia eventualmente un mi piace al video, iscriviti al canale, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e se vi interessa questa rubrica potete andare a vedere i video precedenti, non tanto per i risultati di trading, ma capire eventualmente quali sono stati i ragionamenti che mi hanno portato a chiudere, aprire una posizione e quali possono essere poi le difficoltà, le lezioni che si apprendono durante queste fasi anche di condivisione. Mentre per quanto riguarda dei video di approfondimento, potete guardare questo canale pieno di contenuti tecnici, ma anche relativi alla mentalità e l'approccio necessario nel trading, contenuti gratuiti di cui potete usufruire. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto e vi saluto, vi auguro soprattutto un buon trading, alla prossima, ciao.